buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video trovato dal tecnologico.com se non sei già iscritto al canale e ti inviti iscriverti per rimanere aggiornato sulle ultime guide novità tecnologiche oggi vedremo insieme come creare un comando rapido che al tab avvi la fotocamera clicchi appunto sul pulsante per scattare una foto e dopo automaticamente questa venga salvata nella nostra libreria foto il comando rapido è sostanzialmente questo quindi clicchi qua puoi selezionare chiaramente se fare il flash girare la fotocamera o meno clicca quindi sulla foto usa foto e questa verrà automaticamente salvata nella libreria foto difatti la troverai qua vediamo quindi come fare e dopo vediamo appunto come creare questo comando rapido per prima cosa quindi apre applicazione comandi rapidi che questa clicca più qua in alto qua puoi selezionare il colore dell'icona e l'icona stessa in base alle tue preferenze se vuoi aggiungere invece un'immagine come sempre non potrei farlo da qua ma potrei fare alla fine del video quando condividiamo appunto il nostro comando rapido alla schermata un qua aggiungi nome comando ad esempio scatta foto aggiungi azione ok quindi c'è già un comando scatta aggiungi azione vai su app qua cerca scatta foto eccola qua qua scatta una foto o più quindi se vuoi selezionare più foto clicca il più qua in alto e potrai scattare più foto in una volta con la fotocamera qua potrei selezionare posteriore quindi quella dietro o anteriore quella avanti in base alla tua scelta oppure chiedi ogni volta ti chiederà qual utilizzare riore oppure posteriore in base alla tua scelta cliccando qua mostra l'anteprima fotocamera sì certo va bene e adesso dobbiamo salvare la foto quindi salva foto su recenti vedi che ci suggeriva salva foto quindi salva questa foto su recenti e va benissimo a questo punto quindi proviamo il nostro comando rapido qua togliamo il chiedi quindi qua lasciamo posteriore che benissimo scattiamo la foto una foto e questa verrà poi salvata sulla fotocamera che ne è proprio questo bene amici questo breve video è stato concluso se ti è piaciuto giù mi piace iscriviti al canale al prossimo video grazie a tutti